Esprimiamo condanne e indignazione per l'inaudito atto di violenza che ha nuovamente macchiato la città di Vieste. L'omicidio di Gian Battista Notarangelo rappresenta l'ennesimo disumano atto di una spirale criminale che sta turbando alle fondamenta la nostra città, incrinando nella stabilità sociale ed economica, lo dice in una nota stampa il sindaco di Vieste, Nobiletti. Vieste non è disposta a sottostare a queste feroci logiche mafiose ed intende invece proseguire in un cammino di legalità unico e reale strumento per estirpare il fenomeno criminoso dallo splendido territorio. L'amministrazione comunale a nome di tutta la comunità viestana confidando nelle forze dell'ordine ne sollecita una risposta ferma, risolutiva ed esemplare che possa finalmente porre fine a questa inaccettabile sequenza di atti criminosi. Sul fronte delle indagini intanto si attende l'esito dell'autopsia dalla quale però non si aspettano grosse novità. All'analisi della scientifica anche il calibro dei proiettili ritrovati sul luogo della mattanza ben 18 calibro 49. Le analisi dovranno accertare se magari bossoli siano compatibili con armi già utilizzate in passato in altri gravi fatti di cronaca e stabilire soprattutto quante armi in realtà abbiano sparato, che gli equilibri fragilissimi si fossero rotti definitivamente lo si era capito non otto due settimane fa, quando Marco Raduano, boss emergente dopo l'assassinio di Angelo Notarangelo nel 2015, sfuggì miracolosamente ad un agguato in cui è rimasto ferito.